Michele Isuelli, un question time in cui avete chiesto conto all'assessore Cattaneo delle misure sull'ambiente e soprattutto sulle risorse che l'Europa mette a disposizione della Regione per capire come poi la Regione eventualmente le utilizzerà. Siete soddisfatti della sua risposta innanzitutto? L'assessore è reticente, l'assessore all'ambiente è reticente. Per la quarta volta ci rivolgiamo a lui in aula chiedendo conto di quale sia ruolo che Regione Lombardia vuole giocare sul contenimento delle emissioni di CO2 e sul climate change e ogni volta otteniamo delle risposte parziali. C'è un deficit di analisi, una mancanza di visione, una mancanza di impegni concreti tant'è che l'assessore oggi in aula rivendica come azione il blocco delle auto in tre province che è un pannicello caldo che ormai sappiamo che non ha nessuna azione di vero contenimento sul lungo periodo. L'Unione Europea dà all'Italia 36 miliardi di euro, Regione Lombardia ne riceve due trasferimenti da 970 milioni l'uno, quindi siamo vicini ai 2 miliardi. L'Italia è il principale beneficiario da parte dell'Unione Europea per fondi stanziati a tutela dell'ambiente e contro, a favore del climate change, con 19 miliardi. Di questi fondi regionali, quindi 970 più 970 milioni di euro, il 20% deve essere vincolato ad azioni di tutela ambientale e quindi stiamo parlando di 200 milioni più 200 milioni. Di questo abbiamo avuto, di come sono stati stanziati e o spesi, abbiamo avuto una risposta molto parziale dell'assessore. Il nostro compito sarà cercare di fare follow up, andare a cercare le carte nel dedalo e nel groviglio di Regione Lombardia che è poco trasparente anche nei confronti dei consiglieri, non solo nei confronti dei cittadini. Consigliere, oggi è anche una mozione, devo dire, estremamente interessante. Sostanzialmente, voi dite, esiste un organo di controllo della spesa sanitaria, la gestione sanitaria centrata, ma su questo organo è stato costituito un investimento di 400 mila euro per uno studio fatto da una consulenza per controllare i controllori su come si spendono i soldi. Abbastanza paradossale. Io in due anni di consigliatura non sono, pur avendolo cercato dappertutto, non sono riuscito ad avere in mano un bilancio sanitario di Regione Lombardia che non ho potuto studiare perché non l'ho mai trovato. Ci siamo messi a cercare e abbiamo scoperto che tutte le aziende sanitarie della Lombardia ogni anno miracolosamente chiudono il bilancio perfettamente in pari. E quindi ci è venuta la curiosità e il dovere politico di approfondire questo tema. e abbiamo studiato la relazione della Corte dei Conti che contesta in maniera molto puntuale a Regione Lombardia la gestione di questo sotto insieme di bilancio che è appunto il bilancio sanitario. Ecco consigliere, dunque voi cosa chiedete? Noi chiediamo che Regione Lombardia attui il pieno rispetto del razionale sulla gestione sanitaria centrata e quindi che stabilizzi i capitolati di spesa di anno in anno di modo che siano confrontabili. Chiediamo che pubblichi i bilanci della gestione sanitaria centrata anno per anno entro i termini di legge oppure visto che non è un obbligo dovuto alla legge avere questa gestione sanitaria centrata che Regione decreti la sua incapacità di gestire questa opportunità e che quindi non utilizzi più uno strumento di controllo di gestione dei sistemi sanitari dal punto di vista economico che evidentemente non è in grado di governare. Regione usa i fondi della sanità per pagare altre spese correnti su altri capitolati creando quindi una confusione contabile che non è accettabile e quindi dove regna la confusione e l'opacità e la scarsa possibilità di controllo si possono annidare anche situazioni di terreno fertile per malversazioni e questa è una cosa che è assolutamente da evitare attraverso la semplificazione e la trasparenza.